buongiorno consiglieri seduta di prosecuzione del consiglio della quinta circoscrizione del venticinque giugno duemila e ventuno ore nove quarantuno appello Teresi assente Aiello presente altadonna assente cavaliere presente di Gesù assente figuccia assente lo sardo presente grazie Roberto buongiorno lucido presente palazzo presente stabile assente presidente cinque presenti e cinque assenti grazie segretario visto il numero legale la seduta è aperta oggi giornata di prosecuzione buongiorno consiglieri noi avevamo prelevato un punto ieri che era in merito a un eh un parlare sul regolamento per la concessione del suolo pubblico sì sì di cui ieri avevamo soffeso mezz'oretta per dare possibilità ai consiglieri di poter dare eh studiare il testo sì intanto nominiamo i scrutatori la consigliera di Gesù la consigliera cavaliere la consigliera di Gesù in questo momento non c'è ah allora la consigliera cavaliere il consigliere palazzo e il consigliere lucido chi è contrario e chi si astiene approvato all'unanimità qualcuno vuole intervenire in merito al parere io eh come ho sempre dichiarato ieri ho dato una eh buona eh lettura a questo parere a questo regolamento ritengo che ci ci postano essere eh tante domande da fare ma in realtà non so a chi farle perché non avendo presente qui qualcuno dell'amministrazione che abbia lavorato su questo regolamento mi astengo anche di intervenire eh e tutto quanto ovviamente io eh su questo regolamento e per come ho sempre dichiarato eh in merito a tutti i regolamenti mandati all'amministrazione fin quando non ci sarà presente un tecnico che abbia che ci possa delucidare eh eh sulle nostre eh perplessità leggendo i regolamenti io ovviamente sarò sempre eh eh contrari qualcuno vuole intervenire buongiorno buongiorno consigliere buongiorno consigliere Stapo buongiorno non ci sono interventi in merito a questo regolamento per cui a questo punto eh chiudo la discussione generale sul eh eh sul sul eh regolamento e eh mettiamo in votazione per appello nominale il parere da eh eh da dare. Grazie segretario. Ok. Ore nove e quarantacinque. Teresi assente. Aiello segretario voto contrario come già dichiarato nella discussione generale e per i motivi che ho già impresso. Grazie. Sì. Altadonna assente. Cavaliere astenuta. Di Gesù. Astenuta. Figuccia assente. Lo sardo. Astenuto. Astenuto. Lucido. Astenuto. Palazzo. Astenuto. Stabile. Astenuto. Presidente. Sette presenti. Tre assenti. Un voto contrario e sei astenuti. Grazie segretario. Visto lecito la della votazione il il parere non viene approvato. C'è il voto contrario. Questo è il punto andiamo su l'ordine dei lavori. Ma c'è qualche altro parere segretario? Il PRG. Sì è quello sul PRG però mi sembra che era stato accantonato perché ci doveva essere un incontro con i tecnici qua. Si era deciso qualcosa in conferenza di capigruppo se non ricordo male. Qualcuno sa qualcuno si è convinto il consigliere sardo. Lei ricorda cosa si era stabilito? No si era si era stabilito di attendere di attendere per la trattazione di questo di questo regolamento. Giochi sul piano regolatore. Di attendere perché ancora a quanto pare non si possano non credo non si possano aprire le le schede. Erano state inviate le tavole. Sì sì mi pare che ancora non si possano aprire quindi di conseguenza mi pare inopportuno trattare questo questo piano regolatore presidente. Cioè non ci sono le condizioni ecco perché la trattazione di questo argomento richiede giorni e giorni quindi eventualmente quando sarà opportuno avremo l'ok da parte anche degli uffici chiaramente potremmo ehm trattare eh questo eh strumento eh del del dell'amministrazione che sì 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 lo sappiamo tutti lo sappiamo tutti quindi rinviamo la trattazione sicuramente eh quando ci invieranno eh tutto ciò che è necessario per eh visionare le varie le varie schede le varie tambelle e via discutendo. Grazie Presidente. Grazie consigliere Losardo è stato molto chiaro. A questo punto oltre PRG non ci sono altri pareri da parte del comune? No. No no. Allora a questo punto andiamo sull'ordine dei lavori. c'è il 45 che fosse stato è stato a parte. Il 46 abbiamo che è andato in commissione mobilità e traffico però quanto pare non è stato discusso. Quale punto era? 46. l'ultimo punto scusate Presidente l'ultimo punto trattato eh quale è stato? E' il 65 al 66 scenda signor il 66. 66. E partiamo da lì allora. Sì era abbattimento barriera architettonica. Barriera architettonica esattamente. Esattamente. Ci sono altri punti diciamo scendendo. 67 c'è una presa d'atto commissione speciale per i mercatini settimanali rionadi. 68 quello del PRG no? E poi si va alla programmazione vincolante senza l'articolo 7 alla programmazione semestrale senza l'articolo 21. ho capito. Eh presidente sì mi sembra mi sembra che i punti all'orto del giorno eh da da trattare eh ormai sono ben pochi perché abbiamo eh inoltrato molte proposte alla alle commissione alle commissioni di di competenza tipo attività sociali attività sportive e e attività culturali. Quindi eh credo eh che sia opportuno quindi eventualmente eh in dire in dire magari una conferenza eh dei dei capi gruppo eh anche lunedì eh chiaramente ci ci raccorderemo con con il presidente per vedere insomma se possiamo portare avanti qualche proposta diciamo eh già inserita all'ordine del giorno e e eh diciamo potremmo parlare delle della commissione speciale da istituire mi pare che ci dovrebbe essere una una presa d'atto appunto come diceva poco anzi il segretario c'è anche una proposta che riguarda la via Nicolò via Nicolò Mineo che eh appunto avevo eh sollevato questa problematica appunto eh su via su via Mineo e c'era una proposta avanzata abbiamo effettuato già un sopralluogo assieme assieme al presidente Teresi e volevo che ci eh confrontassimo appunto per sul da farsi sul eh lavoro che dobbiamo dobbiamo fare sul sull' attività appunto che eh bisognerebbe fare iniziare assieme se ci riusciamo appunto a una associazione ecco eh e quindi volevo era importante appunto di parlarne con con il presidente quindi presidente io faccio più buono quanto da lei eh comunicato eh dirato eh merito al come proseguire i lavori eh d'aula e ritengo che per il rispetto dei ruoli e delle istituzioni ritengo che eh l'ordine dei lavori eh debba essere eseguito da dalla conferenza di capigruppo e proprio per tale motivo eh chiudo eh la seduta per eh concordare in conferenza di capigruppo e indicherò parlerò col presidente di convocare conferenza di capigruppo con urgenza affinché si possa stilare l'ordine dei lavori con il criterio della conferenza dei capigruppo la seduta è chiusa grazie buongiorno presidente buongiorno buongiorno a tutti buon fine settimana grazie altrettanto grazie a tutti grazie a tutti